Negli ultimi giorni sono successi tre fatti che mi hanno molto colpito. Il primo, in Russia, Putin che firma il decreto per 175.000 nuovi giovani soldati in Ucraina. 175.000. Nel frattempo Zelensky ha abbassato l'età della leva da 27 a 25 anni. E nel frattempo, come sappiamo, in Palestina un missile colpiva in pieno l'ennesimo gruppo di volontari. E quando questo è stato criticato dall'opinione pubblica internazionale, Netanyahu ha risposto con una frase. Una frase veramente impressionante. Ha detto, sono cose che in guerra succedono. Ecco, io stasera vorrei provare a parlare proprio di questo. Di questa frase, sono cose che in guerra succedono. Che cos'è esattamente la guerra? Perché a volte ce lo dimentichiamo. Allora, parlare con i bambini è sempre un'esperienza spiazzante. A volte spietata, perfino feroce. Perché i bambini non hanno l'ipocrisia. I bambini non la conoscono ancora. L'ipocrisia la impari da grande, la impari crescendo, la impari da adulto. Quell'arte del camuffare i concetti, quell'arte di usare in modo molto scaltro le parole per camuffare le cose. È una cosa che impari da grande. Da bambino non ce l'hai. Ed è la ragione per cui, per esempio, a un bambino non riuscirai mai a spiegare l'utilità della guerra. Non ci riesci. Tanto che alcuni dei poeti che hanno scritto delle liriche sui bambini e la guerra, hanno scritto qualcosa sull'insostenibilità della guerra. Penso a Rodari, penso addirittura a Bertolt Brecht. E proviamo allora a definire la guerra in questo senso. Partendo da un episodio. 16 settembre anno 1920. Davanti a Wall Street arriva una persona mai identificata con un cavallo, con un carretto attaccato al cavallo. E dopo pochi minuti scoppia una bomba. Un ordigno potentissimo. Erano 45 chili di dinamite con 235 chili di vari metalli, che portano alla morte di 38 persone davanti a Wall Street. Ecco, quell'uomo è stato inseguito dalla polizia americana in tutto il mondo. Hanno scatenato una caccia all'uomo che non ha portato nessun risultato. Ma quell'uomo era ricercato in tutto il mondo perché? Perché si era macchiato del reato di strage. Aveva ucciso 38 persone. E come tale veniva ricercato in tutto il mondo. Perché aveva commesso un reato. Ecco, se quell'uomo avesse ucciso 38 persone, oggi in Palestina oppure in Ucraina, gli farebbero un monumento. Gli darebbero una medaglia. E questo ti fa capire qual è l'insostenibilità della guerra, qual è l'incomprensibilità dello strumento della guerra per un bambino. La guerra è quel momento in cui tutto ciò che nei nostri codici legislativi è considerato un reato diventa invece elemento di lode. La razzia, che è il furto, la distruzione, lo stupro sistematico, tutte cose che sono punite nei vari ordinamenti come delle forme di attacco alla comunità, in guerra diventano non soltanto plausibili, ma addirittura celebrate. In altre parole, dovremmo dire che spiegare la guerra a un bambino significerebbe semplicemente dirgli che la guerra è quel momento in cui tutto ciò che è un crimine diventa invece statale, diventa pubblico e addirittura diventa elemento per farti la statua. Tutto questo è l'assoluta insostenibilità, o meglio dovrei dire, l'assoluta imbecillità della guerra.